Ben trovati a tutti voi. Mancano poche settimane al pellegrinaggio che l'Unitalsi ancora una volta organizzerà verso l'URD. Pellegrinaggio che quest'anno torna nella settimana dopo Pasqua per tutta la Diocesi di Verona. Con noi alcuni testimoni in alcune puntate che andremo a realizzare in queste settimane per parlare di questa esperienza e per capire anche quanto questa esperienza serve nella vita di ciascuno. Qui uno dei testimoni di queste settimane abbiamo con noi Daniele Frisoni, ben trovato e grazie per essere con noi, che qualcuno di voi già conosce è referente per il gruppo giovani all'interno dell'Unitalsi e siamo qua appunto per rincontrarci, per ricordare la bellezza di questo pellegrinaggio e per andare a ritornare un po' anche sulla storia delle persone. Intanto parlaci un po' di te Daniele e poi la tua storia di vita brevemente e quello che fai oggi. Allora io sono Daniele, ho 29 anni, vengo da Isola della Scala e nella mia vita faccio loss in una comunità, la piccola fraternità di Isola della Scala, una comunità di dieci ragazzi con disabilità e diciamo che da pochi anni che faccio questo. Prima facevo un altro percorso di vita, studiavo storia dell'arte, però diciamo che il periodo del Covid mi ha aiutato a capire questo e penso che nella mia vita oggi questo sia uno dei momenti principali di esperienza che io vivo nell'aiuto verso gli altri. Poi nella vita di tutti i giorni faccio teatro, faccio catechista nella parrocchia di Isola e quindi sono abbastanza attivo ecco, ho una famiglia abbastanza numerosa che mi prende sempre tanti impegni. Siamo in quattro fratelli e mio fratello più grande ha tre figli, poi ho un fratello prete che è sempre della provincia di Verona, parroco a Spinimbeco Carpi a Villa Bartolomea e poi ho un altro fratello che ho una bambina appena nata. Quindi siamo una famiglia numerosa, piena di impegni e con la quale diciamo condivido tante cose. Anche questo cambiamento di vita interessante, adesso magari ci parlerai meglio e di come lo vivi e forse c'entra anche Maria in tutto questo, il percorso fatto anche con l'Unitalsi che fra l'altro tu conosci già da qualche anno. Sì esatto, io sono andato a Lourdes la prima volta nel 2013, sono andato un po' così. Quindi quest'anno sono proprio dieci anni. Esatto, esatto, ho saltato gli ultimi anni causa Covid purtroppo, però 2013 è stato un anno particolare perché io sono partito un po', lo dico sempre a caso, nel senso così, da solo, senza grandi aspettative sulla cosa, pensando che fosse un'esperienza che dovevo fare una volta nella vita e fatta quella ero a posto poi per sempre. Su, fermiamoci un attimo su questo perché magari qualcuno ti sta ascoltando che vive la tua stessa situazione e tu ti stavi facendo qualche domanda in quel periodo, perché hai deciso di buttarti, di partire? Allora, io in quegli anni in realtà facevo matematica, però non mi piaceva assolutamente. Cioè facevi matematica all'università? All'università, esattamente, ho il primo anno di matematica. Quindi studio, libri, numeri? Esattamente, però sentivo che non era proprio la mia strada e quindi avevo partito un po' con l'idea di dire che prendo una settimana di pausa dalla routine di tutti i giorni per staccare e per vedere un po' cosa può dirmi questa settimana, senza grandi aspettative in realtà. E' una settimana in cui partivo per aiutare. Avevo proprio la necessità di dire che mi prendo una settimana per me, ma prendo soprattutto una settimana per gli altri, per aiutare. E quindi è stata una settimana così, in cui sono partito proprio, lo dico sempre, a caso quasi. Hai conosciuto qualcuno in particolare? Ho conosciuto. Perché poi si condivide la camera, giusto quando si va. Esatto, ho conosciuto persone della mia età più grandi, con la quali veramente non avevo mai avuto modo di parlare. Quindi è stata un'esperienza quella settimana di veramente condivisione, di amicizia con persone che mai mi si aveva aspettato, nel senso che in una settimana uno non pensa di conoscere qualcuno. Poi in quella settimana ho veramente creato relazione, ho capito cosa vuol dire relazione. In una settimana ovviamente il rapporto è nato per poi anche continuare nel tempo. Quante settimane qua sono tutte uguali, penso, e lì sembra dilatarsi il tempo. Esattamente, una settimana di sei giorni diventa come fosse un mese, cioè l'esperienza che tu vivi qua di amicizie con persone, anche di relazioni, di esperienze che vivi là, sono amplificate così tanto che si ritorna veramente con un carico di pienezza, di riempimento interno, di qualcosa, di un'energia nuova che qui ci vogliono magari mesi per avere. Che poi tutto parte anche nella prima esperienza del treno, tu sei andato in treno. Allora io il primo anno in realtà in modo particolare sono partito in pullman, non in treno, ho fatto l'esperienza del pullman. E poi dall'anno successivo ho fatto in realtà l'esperienza del treno. Però il viaggio è di per sé stesso proprio esperienza viva, non è un solo, io lo vedo sempre come il percorso dell'andare, non è un passaggio, ma è proprio esperienza. Cioè io oggi dico che dalla stazione parte il pellegrinaggio, in quel momento lì, in cui saluti con persone che non conosci, che saluti come veramente persone che conosci da anni quasi, lì parte tutto. E quindi già da quel momento lì e poi per tutto il viaggio si crea relazione, si creano sguardi, sorrisi, si vede anche sofferenza, è giusto dirlo nel senso, però quella sofferenza che non è dolore, ma è sofferenza che ti fa dire ce la posso fare anch'io nella mia vita di tutti i giorni a superare le piccole difficoltà che la vita mi mette davanti. E poi all'URD qual era il tuo incarico quel primo anno? Allora il primo anno in realtà facevo servizio ai piani, mi pare il terzo piano. Quindi accompagnavo persone anziane, malati, poi alle varie celebrazioni o a fare anche compere durante il giorno. E quindi in quei trasporti, anche quel portare il malato, portare l'anziano anche alla celebrazione, non era semplicemente un passaggio, ma era proprio un condividere. Io lo vedo sempre come un camminare insieme a una persona che magari vedevi quel giorno, ma che poi magari il giorno dopo era assegnato a qualcun altro, quindi magari non vedevi più. Però anche per quel solo tragitto di strada c'era una condivisione, un rapporto, un parlarsi, un aprirsi, un aprirsi di lui a te, soprattutto. E quindi questa cosa che io ho sempre detto che aiutavo, facevo diciamo le gambe magari di questa persona per arrivare, in realtà in quel tragitto sentivo che io non facevo alcun catering così importante, di fatica, ma lui, quella persona, mi riempieva tanto di esperienze, di vissuti di vita. Mi dicevo sempre, guarda questa persona che non mi conosce, perché mi ha visto 30 secondi prima, si apre, mi dice le sue esperienze, mi dà anche delle chiavi di lettura per la vita. E mi dico, è tanta roba, è una ricchezza immensa questo. Anche perché tante volte sono persone un po' anziane, che vedono il loro nipote. Esattamente, infatti in quel rapporto io ho visto sempre nonna, nonno e nipote, quindi un aprirsi, un dirti la sua proprio per aiutarti. Ecco, quindi in questo rapporto poi ho avuto la fortuna di avere due nonni, uno appunto purtroppo è morto l'anno scorso, quindi in questo rapporto io radevo veramente il rapporto che ho con i miei nonni, un rapporto di veramente vicinanza. Io i miei nonni li vedo sempre come i miei secondi genitori perché mi hanno cresciuto. Quindi in quel rapporto con l'anziano vedevo questo, ecco, vedevo una nonno che ti dà la mano, ti aiuta, ti dà l'amore massimo. E in quel caso lì, amplificato perché è una persona che non conosce, che non ti conosceva, quindi mi dava quella pienezza di dire una persona che non mi conosce mi riempie del massimo del suo amore, della sua vicinanza. Poi sei tornato a casa e dicevi, insomma, è cambiato qualcosa, ecco, la matematica, non so, persano un po' meno. Ho cambiato il percorso di studi e da quell'anno in realtà ho cominciato a vivere l'esperienza con la piccola fraternità del mio paese, quindi portando i ragazzi disabili al mare durante l'estate. La piccola fraternità, scusa, cosa è? È un'associazione nata più di 40 anni fa, Isola della Scala, che poi si è diffusa, diciamo, nella provincia di Verona, c'è a Porto di Legnago, c'è a San Zenito a Verona, quindi ci sono varie comunità, è una comunità alloggio, che durante l'estate organizza appunto questa esperienza al mare, portando i ragazzi della comunità e altri ragazzi del territorio, che quindi givano attorno alla comunità, al mare. E quindi è iniziata lì la mia esperienza anche di volontariato, chiamamolo così, con questi ragazzi. All'inizio era proprio un'esperienza di volontariato, quindi io andavo durante l'estate, un po' magari durante l'anno qualche giorno andavo dai ragazzi in comunità, magari li accompagnavamo per fare esperienze durante l'anno, e quindi lì è cambiata questa mia attenzione verso il territorio, di dire l'Urd è un luogo distante dal mio territorio, dalla mia quotidianità, ma come posso io trasportare quel quotidiano, cioè quella esperienza nel quotidiano? Quindi come posso far diventare l'Urd il mio quotidiano? È un po' quello che dopo il primo anno mi sono preso di impegno, diciamo, di portare questa esperienza di vicinanza a chi magari soffre nel mio quotidiano e nella mia vita di tutti i giorni. Riuscivi? Com'era? È stato bello? È stato bellissimo, è stato per me un grande cambiamento, un cambiamento nella mia vita, nel senso che anche nella vita privata, se così vogliamo chiamarla, è cambiato anche il mio sguardo, è cambiata la mia attenzione, è cambiato anche, posso dire, la mia soddisfazione personale, nel senso che mi sentivo soddisfatto perché mi sentivo veramente riempito, ricaricato e sentivo che a volte, ecco, mi lamentavo di cose banali, ecco, e quindi vedere che c'è gente che magari soffre più di me, che però ha un sorriso, uno sguardo che magari io non avevo, mi fa dire a volte mi lamento di cose inutili, ecco. E nel frattempo ogni anno tornavi all'Urda colpire del luce. Ogni anno tornavo all'Urda, esattamente, perché io la vedevo come la mia caricabatterie dell'anno, nel senso che avevo bisogno proprio di andare per ricaricare le batterie. E io lo dico sempre, è una settimana stancante, nel senso che fisicamente, comunque, è piena, nel senso che c'è da fare, però quando ritorni questa stanchezza sparisce, perché almeno per me è a livello emotivo, a livello proprio spirituale, a livello emozionale, un po' tutto, ho una carica che poi mi dura nel quotidiano per molto tempo, ecco. Quindi la vedevo... Facciamo un po' anche chiamarsi una nuova ripartenza quando sei a casa. Una nuova ripartenza, esattamente, è proprio un ripartire con quello spirito, perché ovviamente la vita quotidiana è molto frenetica, quindi a volte magari quella bella intenzione che uno ha di vivere sempre con il sorriso, nonostante tutto, a volte ovviamente va, diciamo, a rotoli, ecco, perché è la vita frenetica di tutti i giorni. E quindi lì è un monito che io mi do per ricordarmi, guarda Daniele, che nella vita si deve sorridere, nonostante tutto, ecco. Hai parlato anche con altri tuoi coetane, immagino, in quegli anni della tua esperienza, cosa ti dicevano, qualcuno ha provato come te? Ecco, diciamo che io il primo anno, come ho detto prima, sono partito proprio da solo. Poi mi sono creato un gruppo attorno all'Unitalsi di giovani che vivono l'esperienza come me. E una delle difficoltà che ho avuto è quella di non riuscire mai a portare persone che sono nel mio quotidiano, quindi del mio paese, delle mie amicizie, a Lourdes. Forse perché mi sono sempre detto, magari non sono, cioè, non riuscivo magari a mostrare questo sorriso, questa cosa che veramente a me riempiva. Ed è sempre stato per me un punto quasi di mancanza, di tristezza, ecco. Però io sempre raccontavo questa mia esperienza. E quindi io invece quest'anno sono proprio soddisfatto di dire che riesco per la prima volta ad andare via in cinque ragazzi del mio paese, quindi con un gruppo di persone che sono amiche proprio nel quotidiano con me, e quindi di provare anche a loro a far vivere queste esperienze. Quindi per me penso che quest'anno sia la più grande soddisfazione proprio di aver raggiunto. Cosa è successo? Come mai che sono... Allora, non lo so il motivo preciso. Io penso di, forse spero ecco, di aver permesso loro questa gioia, ecco. Sono persone che comunque condividono con me l'esperienza dell'Associazione Piccola Fraternità. C'è appunto l'educatrice della comunità, due ragazze che fanno servizio civile lì, che vivono l'esperienza del mare da anni. E quindi forse anche questa condividere già insieme un'esperienza comunque di aiuto con la disabilità, con persone che soffrono, ecco, ha fatto vedere loro con occhi magari più serenamente questa esperienza, ecco, perché magari sono cose che già vivono. Però ecco, mi fa piacere il fatto di provare a trasportare questa mia esperienza a qualcuno nella mia quotidianità. Anche perché è veramente essenziale passare questo testimone ai giovani per far capire loro la ricchezza di quello che possono vivere. Quindi tu ci dicevi, hai cambiato lavoro, raccontaci di questo passaggio. perché poi finita l'università, cioè finita, interrotta praticamente in un solito percorso di studi e poi lavorativo, com'è stato? Poi ho frequentato beni culturali, poi storia dell'arte e diciamo che il Covid mi ha proprio fermato, mi ha fatto dire cosa sto facendo. Ecco, io ho finito il percorso di storia dell'arte e ho fatto un anno di servizio civile e all'ultimo anno mi potevo... Dove sei stato? Nell'associazione Piccola Fraternità dove proprio lavoro. È stato l'ultimo anno perché appunto poi ho compiuto i 29 anni, il servizio civile non lo si può più fare. Quindi mi sono detto, quest'anno ho la possibilità, anche il Covid mi ferma un po', proviamo a vivere questa esperienza. in quest'anno di esperienza in cui sono, diciamo ho fatto un passaggio in più, da semplice volontario nell'associazione a persona che vive l'associazione, quindi vive la comunità alloggio 24 ore su 24, in qualche modo vive dentro, ecco vive tutto un anno. In quell'anno per situazioni particolari, un'operatrice appunto aveva lasciato la comunità, mi è stata proposta l'idea di vivere un po' anche il discorso operatore, quindi di vivere proprio il contatto con i ragazzi a tutto tondo, ecco. E quella cosa mi ha interrogato molto, mi ha fatto dire, ma mi piacerebbe vivere questo come lavoro, cioè l'aiuto, la vicinanza con i ragazzi, farlo diventare un po' la mia quotidianità, perché il lavoro è la quotidianità, nel senso che ci si vive tanto tempo, ecco. E quindi mi sono detto, sì lo posso fare, ecco. Quindi finito l'anno di servizio civile, sono stato assunto appunto in comunità e nel frattempo ho cominciato il corso OSS, quindi adesso sto oltre al lavoro, faccio anche il tirocinio per appunto concludere il percorso del corso OSS. E lì come ti occupi di qualcuno in particolare o fai quello di cui c'è bisogno? Esatto, lì facciamo quello di cui c'è bisogno, sono dieci ragazzi in comunità che hanno esigenze diverse ovviamente. Età? Età, abbiamo un'età un po' variegata, abbiamo dalla più giovane che ha 31 anni a quella che è più anziana, diciamo che ne ha 70, con diverse tipologie di disabilità, nel senso abbiamo un ragazzo down, abbiamo persone in carrozzina, quindi anche proprio la varietà di disabilità è ampia, ecco. E quindi l'aiuto che diamo è un aiuto diciamo completo, perché se non una comunità alloggio stanno lì tutta proprio la settimana completa, quindi c'è un aiuto anche nel discorso delle visite, c'è un aiuto nel supportare quelle che sono le loro diciamo autonomie, quindi mantenere quelle che sono le loro autonomie, li portiamo a fare uscite, adesso dopo diciamo il covid, quindi un po' l'allentamento che abbiamo avuto, c'è la possibilità anche di portarli a fare esperienze, perché per loro il covid è stato molto limitante, nel senso che le restrizioni per le comunità alloggio sono state tante. Pesano di più che non a una persona magari normodotata. Esatto, e quindi il fatto di dover stare per quasi un anno e mezzo chiusi in questa comunità è stato complicato, quindi... Adesso dove li porterete? Avete qualche esito? Ad esempio, beh, durante l'inverno li abbiamo portati anche al lago e sicuramente dopo il covid abbiamo ricominciato anche l'esperienza estiva al mare, quindi sono esperienze che per loro sono tanta cose, danno tanta energia perché li porti fuori e poi spesso magari li portiamo a passeggiate, a fare passeggiate nel paese, quindi a fare compre, ecco per loro l'idea di non poter più far compre durante il covid per alcuni di loro è stato difficile. Fare piccole, piccole compre che danno un'enorme soddisfazione. Esattamente, cioè loro non hanno bisogno di queste grandi cose, hanno bisogno anche solo di uscire. Anche a volte la singolarità, nel senso un rapporto uno a uno fa operatore e ragazzo, quindi quella mattina porto solo quel ragazzo a fare l'uscita, a fare la visita, anche solo per dire vado a prendere le medicine in farmacia, mi porto un ragazzo e nel taggitto è camminare, è condividere. Infatti ecco qui la similarità che io vedo con Lourdes è proprio questa, c'è anche quando io esco, magari vado a fare una, vado a prendere appunto, devo andare a prendere delle carte all'ospedale, mi porto un ragazzo perché nel trasporto, nel taggitto diventa relazione e quindi è un po' io ho visto in quella chiave proprio Lourdes. Verso la grotta. Esattamente, io la vedo così, nel senso che il trasporto è relazione e lì crei tanta relazione. E qui con noi vediamo c'è Maria e per quanto riguarda l'aspetto fede e quanto ti ha aiutato l'esperienza di Lourdes con l'Unitalsi, ho vissuta poi dopo, anche nella tua vita quanto ti aiuta ancora? Mi aiuta tantissimo perché io, dicono tutti i miei amici che sono una persona che ha fatto tantissime cose nella vita e io da giovane, diciamo le medie e le superiori le ho fatte in seminario. Poi in seconda superiore sono uscito e lì per me è stato un po', non dico un distacco dalla fede, nel senso che sono sempre andato agli adolescenti, ho sempre fatto il catechista anche una volta finita le superiori, però è sempre stato un rapporto un po' freddo, diciamo, un po' per, lo dico io, per convenienza. Ecco, ci vado però non mi faccio toccare. Sta bene, però, insomma. E le relazioni ci sono, mi fa bene, però è finita lì. Diciamo che l'esperienza poi di Lourdes non è stato immediato, è stato poi nel corso degli anni, mi ha anche permesso di rinvigorire, ecco, la mia fede, ecco. Mi ha permesso, io quello me lo ricordo bene, è stato forse nel 2015, ecco, tra il 2014 2015, in quei due anni lì ho avuto la possibilità di stare anche alla grotta per molto tempo, ecco, quindi stare anche alla grotta mi ha permesso di riallacciare un rapporto con Maria soprattutto, ma poi di riallacciare un rapporto con la mia fede, una fede personale, quindi un'esperienza di fede importante, ecco, quindi anche questo è venuto magari un po' dopo rispetto al rapporto con la disabilità e con la sofferenza, ecco, però è arrivato anche quello. C'è bisogno anche di pazienza perché poi il tempo, esatto, aiuta. Per quanto riguarda il coinvolgimento di ragazzi anche con la tua parrocchia, Isola della Scala, so che anche lì c'è un movimento per cercare di portare alcuni giovani, ecco, come vi state muovendo? Tu fra l'altro sei nel direttivo, sei responsabile dei giovani, perché sappiamo che come tante associazioni, anche la vostra, e vuole spingere i giovani a fare questa esperienza perché si rimane un po' chiusi in casa e insomma c'è questa difficoltà di far capire ai giovani la ricchezza di questa esperienza. Esattamente, nel senso che negli ultimi anni anche come abbiamo creato una cosiddetta equip giovani, siamo in 4-5 ragazzi che da anni vanno a Lourdes e che proviamo a trasportare questo modo, io lo dico, di vivere l'esperienza di Lourdes e poi nella quotidianità attraverso anche testimonianze, attraverso anche un, forse condividere e semplicemente lo stare insieme, nel senso che l'ultima volta che abbiamo fatto un incontro, il 14 gennaio con alcuni giovani, ho portato i miei amici appunto che verranno quest'anno a vivere questa esperienza di condivisione, non abbiamo fatto niente di così grande diciamo, abbiamo semplicemente vissuto un momento di preghiere insieme e poi una cena in condivisione, quindi per me è quello, è il condividere insieme un'esperienza, condividere la gioia dello stare insieme, forse oggi il giovane ha bisogno di questo, nel senso che oggi, a differenza di anni fa, il giovane ha tanti input, nel senso che la parrocchia ormai sta diventando forse quasi uno dei tanti input, quindi c'è bisogno di condivisione, di vera, di fermarsi ecco, nel senso che la vita fenetica, la vita fatta di tanti input, l'università, chi lavora, il telegiornale con mille notizie, tantissime cose, c'è bisogno di vivere quella relazione, ecco poi il social e tutte quelle cose che a noi da una parte forse ha aiutato, ma dall'altra hanno fatto perdere forse il discorso della relazione vis-a-vis, il covid ha forse accelerato un processo di perdita di relazione. Secondo me è importante quello che hai detto anche all'inizio, pensare e staccarsi un po' da se stessi, il primo anno in cui l'hai vissuto tu, e pensare a fare una settimana per gli altri. Ecco, io lo dico sempre al giovane d'oggi, se dice, io non vado perché ho paura e non vado perché sono da solo, io dico, secondo me hai quell'intenzione va benissimo. Secondo me è perché l'intenzione giusta con cui partire, perché parti intanto senza aspettative e parti proprio nel senso direi io mi affido, quindi sei sicuro che anche poco che tu riceva è sempre di più di quanto tu volevi, cioè la motivazione con cui volevi partire. Quindi ecco partire anche con la paura va benissimo e anche partire con l'intenzione di dire io vado per aiutare, va bene. Io sono sicurissimo che questa intenzione, questa motivazione verrà smontata dopo due giorni, perché quello che tu aiuti è vero aiuti, ma sarà molto meno di quello che tu ricevi, ecco. E poi a me piace sempre dire che l'URD è sì un luogo, è un luogo fatto di edifici, ovviamente è lì che c'è. Però secondo me l'URD è, e oggi lo chiamo il mio luogo del cuore, ma luogo fatto di esperienze, di sorrisi, di persone, persone che oggi io non ricordo l'anziano che il primo anno, cioè nel senso non ricordo il nome, perché comunque sono passati dieci anni, però ricordo la sensazione dentro di me che mi ha lasciato. Quindi vedi tanti volti e ricordarli tutti è un po' difficile, ecco, soprattutto uno magari che va bene. Era la persona della quale aveva bisogno in quel momento e viceversa. Esatto, ecco, è proprio la sensazione che io ho sentito dentro di me, la pienezza che ho sentito che ricordo, ecco, e quella non la dimenticherò mai. Quindi gli spot proprio di esperienze, di sorrisi, magari veramente persone con le quali neanche parli, ma ti fanno questo sorriso naturale. Io oggi dico quando passo per strada, tante volte il giovane, ma io stesso ecco, cuffiette, e anche quelle senza cave, adesso ci sono le tecnologie, cuffiette, musica e vai per la tua strada, quindi puoi passarti vicino anche a una persona che conosci, ma non la vedi. Ecco, e là invece il sorriso di queste persone che non ti conoscono ti fa dire ma io nella vita di tutti i giorni, cioè passo, mi passano le ore senza pensare. Che poi all'URD ci sono anche dei momenti dedicati proprio ai giovani, in cui si può stare con coetanei a condividere. Esatto, ecco, il giovedì c'è il momento del ritiro giovani che è un momento proprio edificante per me, nel senso che è un momento in cui proprio vivi e condividi con persone che magari nella vita di tutti i giorni condividono esperienze come la tua, magari veramente trovi persone che fanno il tuo stesso lavoro, che vivono la tua stessa università, che fanno veramente il tuo taggitto di vita quotidiana e che quindi ti permette anche di condividere sensazioni, di avere anche degli spunti nuovi. Con cui poi puoi coltivare un'amicizia tornata a casa. Assolutamente, e oggi le persone appunto con cui anche siamo questo gruppo di cinque ragazzi, ci siamo conosciuti a Lourdes, cioè una ragazza con la quale abbiamo condiviso il primo anno insieme e poi negli anni magari lei ha saltato qualche anno, così. Però veramente abbiamo creato un rapporto di amicizia che va avanti da anni, ecco. Poi magari nel quotidiano non ci si vede tutti i giorni perché veniamo da esperienze diverse, ma poi nel momento in cui ci ritroviamo abbiamo, secondo me, quel legame di esperienza forte che è Lourdes, che ci permette anche di creare relazione, ecco. Grazie Daniele. Allora ricordiamo, per chi volesse, perché mancano ancora delle settimane per potersi iscrivere, giusto il pellegrinaggio a Lourdes di quest'anno. Dopo Pasqua, ti ricordi le date precise? Allora, dal 10 al 16 aprile. Come si può fare per iscriversi, per contattare Unitalsi? Ok, c'è il sito dell'Unitalsi e con tutti i recapiti le quote appunto sono già uscite, quindi il tempo per iscriverci c'è. Secondo me, ecco, la cosa importante ritengo io è non aver paura di nulla, ma proprio lanciarsi e anche se si ha quell'1% di voglia, se si hanno le possibilità a livello di tempistiche di dire io quella settimana me la posso prendere, di partire, ecco. Fare di tutto per trovare il tempo per viverla questa esperienza. E se si hanno paure, ecco, io lo dico, il giovane oggi magari ha paura del discorso divisa, nel senso che è per un giovane magari complicato, o il fatto di dire non conosco nessuno, ecco, via, lanciatevi, partite, non abbiate timore, provate l'esperienza che io vi assicuro che vi darà tanto, ecco. E anche forse solo magari l'esperienza di un anno, magari poi le circostanze della vita non ti permettono di ritornare, ma sarà un'esperienza che secondo me ricorderete anche solo per un anno. Ecco, io conosco ragazzi, persone con le quali veramente ho un bel rapporto, che hanno vissuto l'esperienza solo per un anno, perché poi il lavoro non gli ha permesso più di viverla. Però, ecco, hanno detto è tanta roba. Grazie, grazie tante allora Daniele per essere stato con noi, buon pellegrinaggio quest'anno. Grazie mille. Grazie a tutti.